Occhio alle assicurazioni online, ancora truffe sul web, vittime due persone, in un caso era girato un 51enne bassanese che ha guidato senza assicurazione dell'auto per quasi un anno convinto di essere in regola. Intercettato da un barco elettronico è emerso che era totalmente scoperto. Si è rivolto alla polizia stradale, gli inquirenti sono risaliti a un napoletano di 21 anni denunciato per truffa aggravata in concorso con una donna che teneva i contatti con le vittime chiedendo dati e documenti via WhatsApp, pagamento effettuato, assicurazione inesistente. Stessa cosa accaduta a un 44enne di origine albanese, polizza stipulata sempre via telefono, pagata ricaricando una carta post e pay, ma anche per lui una bella beffa, in questo caso denunciata a una 49enne di Pozzuoli.